Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Allora, sovris fat cas, quando non si sa fare una cosa, e è così difficile che mai si si sguenta di fare, e allora si metteci. Ma si sa che bisogna essere tanti uomini, che bisogna farci insegnare, e avere tante pazienza con se stessi per imparare plan, plan che cose. Dopo che il puoi fare, si le fa anche subite, si le fa alla svelte, è diventato facile. E è tanto facile quanto si usa, che quando uno non sa fare, si smarreveisi. Ma in pensare si dice che non sia succeduto, no. E se non si domandano di iudaio a fare cose, provino a pensare e avere tante pazienza con l'insegnamento a loro, perché anche loro dovrebbero toccare la plan, plan, come che non si sa tocchiata noi. Buona giornata e buona vita.